Siamo qui al termine di Caire Zevado, vinta dai giallobru per 2 a 1. Siamo qui con Alvaro Ngambà e Brandon Onconi. Allora Brandon, per te oggi è una partita spettacolare. Il gol del tuo a zero è andato a tua firma, ma nel complesso hai fatto una partita importante. Come hai visto te e i tuoi compagni oggi in campo? Abbiamo lavorato bene questa settimana. Abbiamo fatto molte tattiche. Quindi sul piano difensivo ci aspettavamo questa partita. E adesso è il cinque partita. Siamo di più e più fisicamente. Io mi senti bene, avevo le jambi. Adesso vieni a fare un nuovo partita. E io volevo ti tenere. Ha detto ora è la cinque partita. Ci sentiamo bene, le gambe. Lui sapeva che questa partita era importante per la Cairese, per il derby. Quindi avevo il cuore di farne bene oggi. Per te Alvaro oggi è una partita spettacolare. Eri dappertutto in campo dal punto di vista atletico. Ti senti bene. E le troviande oggi erano ovunque. Perché su tutti i palloni hai recuperato veramente tante palle. E io ho portato veramente tanto tanto per i compagni oggi. Sì, come lui è inizio era un po' difficile. E ora mi sento veramente bene. Le gambe, la testa, quindi è normale. Hai una dedica particolare per il gol fatto? Una dedica a qualunque particolare? Ma hai detto per i tifosi, perché questa partita è una partita importante per la città. E dove si possa arrivare questa squadra? Che campionato può fare la città? Che campionato può fare la città? Che campionato? Io penso che... Un match alla fine. Non ci sono i limiti. Ma abbiamo un'ambizione. Ha detto... Penso che possiamo prendere una partita... Partita per partita. Partita per partita. Senza... Presuntozzo. Però siamo... Abbiamo un'ambizione. Cairo, Montenotte, una bella piazza. D'inverno un po' fredda. Comunque una bella piazza, una bella società. Come vi trovate? Come si trovate? Come si trovate? A Gigo si trova bene. Ma viene arrivato, ma l'adaptazione si faceva bene. Mi prendo il buio. E siamo contenti. Ha detto sicuramente bene. L'adaptazione si passa bene. E siamo contenti. Anche per te vale tutto questo? Sì, sì. Certo. Benissimo per me. Grazie, ragazzi. In bocca al lupo. Grazie.